spero che vi siete divertiti innanzitutto stasera l'orario si era un po' dilungato però abbiamo iniziato più tardi e quindi purtroppo magari non tutti sono riusciti a vedere l'ultimo incontro però si sono persi davvero spero un bel match quindi auguro a questi ragazzi di fare il massimo lo auguriamo tutti noi e quindi è per me un onore chiamare i contendenti per il match finale in ordine alfabetico Aiello versus Saffa Applausi Applausi Valentino Saffa Applausi 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 Nella maglietta, per quanto riguarda la partita, ancora a terzo nido, il patrullo pensando in un modo operale, per il progetto principale eventuale emozione, la donata, il trauma, il patrullo, 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 trattuali, le grandi sportivi, le ali, forti, decisi, determinati, amici della vita, a tutti si combatteranno qui all'ultimo entra Agnello Grazie 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 E' il momento non ci si fa E' il momento non ci si fa non ci sono anche non ci sono non ci sono non ci sono e' il momento Agnello verso stacca E' il momento E' il momento un giudicornoso un giudicentrale e il bambino mi raccomando che si diventa non si colpisce le spalle non si colpisce agli occhi non si colpisce ai genitali si colpisce si combatteranno si dà tutto questo è il vero sport è un po' molto un giudicentrale grazie 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 a tutti. 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 Grazie a tutti.